Un grande gioco di squadra, quattro ETS che uniscono le forze e anche le risorse per sviluppare questo nuovo laboratorio proprio qua nella zona Mind per lanciare verso il futuro, verso l'innovazione i nostri ragazzi che scelgono i nostri percorsi di alta formazione professionale. Noi siamo orgogliosi di tutto il nostro sistema di ETS Academy, quindi di alta formazione professionale perché siamo la prima regione d'Italia non solo per i numeri ma anche per la qualità. Noi esprimiamo qualcosa come più di 8.000 ragazzi in formazione negli ETS Academy, abbiamo più di 26 fondazioni sul nostro territorio, abbiamo solo quest'anno introdotto più di 100 percorsi nuovi, 100 corsi e percorsi che parlano la stessa lingua con le competenze più richieste dal nostro mondo economico produttivo, quindi dalle imprese. È proprio da lì che parte la chiave d'entrata, il successo della nostra formazione professionale, ovvero noi andiamo a sviluppare quella che è l'offerta formativa proprio raccogliendo il bisogno del territorio. Mind sta sempre più crescendo, una scommessa che incrociando le dita, ma vogliamo e crediamo di poter vincere. Qui a breve partiranno tra gli ultimi lavori molto importanti dell'Università Statale di Milano per realizzare il campus scientifico, si aggiunge questa iniziativa sulla formazione professionale collegata al campus ITS e quindi è una città nella città che prende sempre più forma e guarda al futuro, nel senso che questi due investimenti che ho citato riguardano i nostri ragazzi, riguardano i giovani. E la volontà è proprio quella anche di dare un segnale rispetto all'esterno. Questa iniziativa del campus ITS ha come la volontà anche di dire quanto sia importante oggi, in un momento in cui si fa sempre più fatica a ridurre il disallineamento che c'è tra quello che cercano le imprese e quello che viene imparato sui banchi di scuola, ha bisogno anche di segnali, segnali positivi. E quando in un luogo come Mind, che diventerà come di un punto di riferimento a livello europeo, sul tema della formazione, sul tema dell'innovazione, è chiaro che anche come prospettiva, come messaggio che viene dato rispetto alla formazione tecnica, che è molto necessaria, è un messaggio molto bello. Insomma, in Germania non abbiamo una grande differenza culturale tra la formazione umanistica e la formazione tecnica. La scelta viene fatta sulla base delle inclinazioni del ragazzo, sulla base dell'orientamento. Oggi invece abbiamo un po' ancora questo retaggio culturale, per cui la formazione tecnica ha qualcosa in meno, vista un po' come una formazione in serie B rispetto alla formazione universitaria.